E' un'altra penetrazione con Iacono che ha tantissimo spazio per arrampicarsi sul ferro del palazzetto di Gazzada. Non ha tenuto fisicamente Bertoglio, gran canestro, eccolo qui Bertoglio adesso, apriva per Colombo che va da Mori, che deve attaccare i dosi ignoli, si gira con la mano sinistra. Tandoi con contatto a far correre il minuto 3, però va ad andare dentro da Tagliabue che non può sbagliare questa conclusione. Molto lontano dal ferro, vado Tagliabue, altro uno contro uno, c'è tanto spazio al centro dell'aria perché Gardelli è in ritardo, poi il ritardo riesce a essere anche su Bolona che si prende la linea di fondo e va a...